ciao a tutti vediamo se parte se la diretta è partita eccoci saluto luca davola vedo il primo collegato luca davola che saluto iniziamo sempre con qualche saluto saluto nuvola nuvolari saluto tutti voi che vi state connettendo dopo una settimana particolarmente intensa qui al parlamento europeo dove siamo tornati a strasburgo ciao ad alessandro mari ciao ad amedeo ciofalo franco siciliano a gerardo rinaldo a tutti voi che vi state connettendo isabella lincoln iniziamo sempre con questi saluti qui da strasburgo dopo un anno e mezzo quasi che non mi chiamo saluto enrico sabelli saluto margherita salerno mary serrenti dalla sardegna come sempre iniziamo con i saluti per permettere a tutti di collegarsi e poi iniziare a discutere delle tante cose della tanta carne che c'è al fuoco ciao salvatore donadio a mike fender marzia sanson pasqualino costabile claudia cucuccio tanti amici cristelle teison saluto fabio ruggeri e tanti amici che si connettono grazie a enzo cuomo che mi chiama guerriero spero di essere sempre un guerriero valido ciao gennaro petrillo ciao ad alessandra bagnato da roma caramica saluto a via di lorenzo a leo arli e tutti gli altri saluto roberto natini allora ragazzi siamo già più di siamo quasi già 600 aspettiamo ancora qualche secondo qualche altro saluto in maniera da essere tutti e poi partiamo vi ricordo come sempre che vi invito saluto lucia lucia laratro mario di sotto claudio persichini grazie mario grazie saluto l'amico toni d'angelo che non è un nostro attivista ma è una persona molto intelligente un regista molto bravo napoletano nonché lo posso dire figlio del grande cantante napoletano nino d'angelo ed è un amico ed è una di quelle persone che apprezzo molto perché pur non essendo un come dire fanatico un attivista della primissima ora come qualcuno ama definirsi è uno di quegli italiani che con molta onestà intellettuale quando il movimento 5 stelle fa delle cose buone lo appoggia purtroppo nel mondo del cinema ed in generale delle professioni intellettuali ce ne sono poche di persone oneste intellettualmente come toni e mi fa piacere che ogni tanto segua anche le mie dirette ci sono molte cose da dire e quindi vi invito stiamo per iniziare a condividere questa diretta sul vostro profilo facebook sulle pagine facebook che gestite o sui gruppi facebook e poi naturalmente sulle chat di messenger whatsapp instagram signal telegram eccetera 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 oddio ecco qua allora ci sono molte cose partiamo naturalmente da giuseppe conte ciao salvatore fallica ciao matteo gessani ciao a toni giordano che ringrazio per le sue parole carola buonanno che non vedo da un po ma magari sabato che torno a catania ci potremmo anche beccare a cagliari carameri dovrei tornare la settimana del 25 26 credo o quella subito successiva saluto tania silicato marina nerina benetazzo e tutti gli altri quindi vi invito a condividere questa diretta e iniziamo iniziamo naturalmente commentando insieme l'evoluzione del movimento 5 stelle in particolare della figura di giuseppe conte di quello che sta facendo giuseppe conte in questi ultimi giorni e della sua performance chiamiamola così della sua ospitata da floris iniziamo col dire una cosa fondamentale rispetto a giuseppe conte e cioè che quando c'è una persona come giuseppe conte a differenza di quando c'è la meloni quando c'è salvini di quando c'è renzi quando c'è lo stesso verso bersani che per carità persona corretta ma diciamo con questi c'è sempre un certo timore reverenziale da parte degli dei conduttori dei programmi televisivi non stanno sempre lì molto rispettosi a farlo parlare quasi quasi a chiedergli scusa se gli fanno una domanda invece ho notato con conte un altro tipo di atteggiamento che era quello di incalzare 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 succedeva anche tempo fa con di maio quando era di maio il leader politico del movimento 5 stelle e la cosa che mi ha sconvolto è che faceva una domanda floris spesso molto lunga e non appena conte iniziava a rispondere gli parlava sopra facendo un'altra domanda interrompendolo in qualche modo confondendo quello che stava dicendo per dare lui stesso una risposta negativa alla sua stessa domanda o alla domanda che facevano gli altri ospiti c'era mirta merlino c'era sallusti e c'era il direttore del core della sera fontana vedete la differenza di atteggiamento io ne ho parlato spesso in questa in queste dirette sulla mia pagina ne ho parlato anche quando scusatemi ma ne ho parlato quando abbiamo sono stato da formigli recentemente a parlare di virginia raggi anche lì formigli con gli altri era gentile come mancava solo che mi venasse e aveva fatto tutto ecco con conte ho notato questa cosa lui inizia a parlare di fare una domanda lunghissima domande lunghissime che che in qualche modo contenevano in sé una risposta negativa poi lui iniziava a parlare non so se l'avete notato e quelli parlavano di sopra appena lui inizia a parlare e no ma ma insomma ma se così no ma allora di maio allora quello viene espulso ma quello non si ricandida allora ma non come fa a tenere uniti conte inizia a parlare dice no ma noi e no però quello ha fatto quella cosa lì cioè gli andavano contro a voler assolutamente sminuire quello che diceva il presidente conte o farlo confondere perché poi vi assicuro io modestamente penso in televisione di essere piuttosto bravo a esprimermi ma è chiaro che è più complicato se qualcuno mentre tu inizi a parlare ti parla sopra e ti interrompe e ti spezza il tuo ragionamento diventa tutto molto più complicato e invece conte da grande personalità e uomo autorevole e capace qual è è stato molto bravo a spiegare tutto quello che c'era da spiegare e la seconda cosa poi entriamo nel nel nei dettagli nel contenuto ma la seconda cosa che dovrete che vi invito a notare e per questo poi vi invito a dire condividete la mia diretta condividete questa diretta adesso basta premere condividi sui vostri profili le vostre pagine perché bisogna farle notare alcune cose bisogna diffondere un certo tipo di comunicazione e di informazione perché perché la seconda cosa che mi interessa farvi notare che conte dopo che ha parlato in un ripeto in un ambiente non certamente favorevole a lui io lo definirei ostile pensavo certamente non favorevole ha dimostrato uno spessore a mio parere una grandezza un'autorevolezza una calma una qualità umana molto alta che non siamo abituati a vedere nei cosiddetti leader italiani e facciamo un paragone fra con tutto il rispetto fra conte salvini giorgia meloni renzi e berlusconi diciamo questi sono i cinque leader in questo momento dei cinque più importanti forze politiche ma non c'è paragone ma avete capito la grandezza la qualità umana la qualità la cultura l'autorevolezza di una persona come conte con tutto il rispetto ripeto perché poi ognuno può avere le sue idee con tutto il rispetto rispetto a salvini o rispetto a giorgia meloni o rispetto a matteo renzi che ne dice una al minuto o rispetto a berlusconi che ormai peraltro pare che non stia neanche bene di saluti ma avete visto la differenza ecco la cosa per me incredibile è che a fronte di una oggettiva qualità umana da parte di giuseppe conte il giorno dopo e ancora oggi se vi vedete gli editoriali il corriere della sera repubblica massimo franco stefano folli dicono conte è stato mediocre conte non ci è piaciuto ora se parliamo di politica ognuno può avere le sue opinioni puoi tranquillamente dire io preferisco la politica della lega o dei forza italia o di renzi o di fratelli italia e quindi non mi piace il movimento 5 stelle quindi non voterò per conte non lo apprezzo perché le cose che dice da un puntista politico non mi piacciono questo è legittimo ma non puoi caro giornalista o pseudo tale non puoi mentire così spudoramatamente spudoratamente non puoi mentire così spudoratamente e dire che giuseppe conte non è non è stato bravo non è stato convincente è stato mediocre perché falso ma ragazzi ma avercene persone come conte ma porca miseria ma proprio per il bene dell'italia per l'immagine dell'italia in europa e nel mondo ma ad averne leader così ma parliamoci chiaro 40 anni fa quando la politica italiana era una cosa diversa c'erano delle aberrazioni c'erano legami con la mafia che ci sono ancora ma c'erano dei leader che avevano una personalità nel bene nel male ripeto io ricordo il leader del partito comunista enrico berlinguer un gigante il leader del movimento sociale che a me fa orrore come ideologia ma almirante rispetto al parlo proprio della dello spessore politico di una politica che a me non piace naturalmente aveva uno spessore andreotti il peggior politico secondo me che l'italia abbia avuto ma come leader come statura aveva uno spessore e così naturalmente il grande sandro pertini e così poi altro disastro per me schifoso craxi anche lui aveva uno spessore oggi mi pare che conte dimostri di essere l'unico leader politico che oltre ad avere consenso ha uno spessore l'unico leader politico capace di parlare in maniera corretta in maniera fluida comprensibile di fare delle proposte di rispondere con autorevolezza alle domande di ricordare tutte le cose buone che ha fatto e invece il giorno dopo sui giornali leggo persone che fanno di mestiere il giornalista in teoria e scrivono la delusione conte boom blef ma ma voi avete visto chi sono gli altri leader in questo momento in questo paese volete davvero paragonare conte giuseppe conte a matteo salvini a giorgia meloni a silvio berlusconi a matteo renzi no perché è falso cioè ripeto da un punto di vista ideologico politico puoi naturalmente non approvare quello che dice ma non puoi negare lo spessore di quella persona e il fatto che in italia si continui ad avere anche nei giornali cosiddetti mainstream cosiddetti che si sono autodefiniti da tempo autorevoli e poi non lo sono ma questo è un altro discorso il fatto che si parli davvero di conte come deludente come mediocre è segno della malattia che ha questo paese la malattia che ha questo paese è il rapporto fra imprenditori e quindi soldi interessi potere e informazione e l'informazione influisce in maniera enorme sulla politica per questo vi dico condividete questa diretta per questo vi chiedo di condividere questi contenuti perché se noi facciamo una contro informazione dove riusciamo a spiegare la nostra verità a esporla poi ciascuno può scegliere quello che vuole è chiaro ma sceglierà con maggiore capacità di analisi e di farsi un'idea corretta di quello che è successo attorno a lui molte persone non hanno i mezzi per analizzare la realtà magari leggono solo il titolo di un giornale il titolo di un telegiornale magari leggono figuraccia di conte in tv e pensano davvero che conte abbia fatto una figuraccia e questo io non lo accetto io questo non lo accetto e vi faccio un esempio semplice ma ora stiamo scoprendo oggi stiamo scoprendo oggi che il vaccino astrazeneca probabilmente sarebbe stato meglio non somministrarlo alle persone di età minore di 40 anni ok lo stiamo scoprendo oggi sono usciti molti autorevoli medici o specialisti del settore dicendo attenzione sospendiamo l'astrazeneca per gli under 40 dopo che ne abbiamo somministrate adesso non vado a memoria circa 4 500 mila dosi agli under 40 anche a ragazzi giovani purtroppo è morta una ragazza a genova per una trombosi potrebbe essere legata all'effetto negativo di questo vaccino potrebbe dico potrebbe perché non è certo nei confronti di una giovane tanto che loro stessi dicono interrompiamolo con i giovani ai giovani non diamo questo vaccino diamo un altro tipo di vaccino ora io dico una cosa benedetto figliuolo come diceva totò benedetto figliuolo se questa cosa molto grave perché stiamo parlando di una marcia indietro molto grave l'avesse fatta arcuri l'avessero fatta sotto il governo conte e non sotto il governo draghi quale sarebbero stati i titoli dei giornali sarebbero stati vergogna incompetenti conte vattene a casa dimettiti dimettiti ministro della sanità dimettiti sileri dimetti di questo dimetti si dovevano dimettere tutti era uno scandalo arcuri vaffanculo avrebbero detto queste cose qui siccome le fa figliuolo con tutti figliuolo che si chiama con la u figliuolo con tutte quelle medagliette che ha e fa parte del governo draghi è stato scelto da draghi improvvisamente questa clamorosa marcia indietro sui giornali è come una notizia di seconda di seconda importanza e non è una notizia di seconda importanza capite perché abbiamo un problema di informazione così grande e giuseppe conte è stato un gran signore un gran signore è stato da floris perché avrebbe potuto dire in maniera molto più severa guardate che le cose col governo draghi sono andate peggio che col mio stanno andando peggio che col mio e io mi auguro che lui abbia la forza il coraggio di dirlo perché è la verità perché se questa cosa di astrazeneca l'avesse fatta il governo conte sarebbe stato arso vivo sarebbe stato linciato sui giornali e in tv linciato e invece siccome è una cazzata grave che sta facendo ha fatto il governo draghi e di draghi non si può parlare male ha ragione marco travaglio come se fosse l'infallibile il papa non lo so una creatura divina invece poveraccio è un uomo come tutti noi e sbaglia come tutti noi in più il governo conte aveva una direzione e questo governo draghi invece ha forza italia la lega il 5 stelle il pd tutti insieme ed è chiaro che è più difficile mettere d'accordo tutti quindi draghi sta governando peggio di conte ed è un dato di fatto ripeto il caso astrazeneca è di una gravità assoluta ma lo vogliamo dire la vogliamo chi ritaglia i pezzi della mia diretta chi vuole condividere la mia diretta la volete condividere lo vogliamo dire al mondo che qui c'è un caso gravissimo e che se fosse successo con conte sarebbe la notizia del giorno siccome è successo con draghi fanno tutti pippa questo dovremmo dovremmo dire con molta onestà intellettuale invece non viene detto e per me questa cosa è molto importante perché racconta il solito rapporto perverso che ha la stampa italiana con la realtà con la politica con il potere con il potere economico e quindi racconta le cose un po come cazzo gli pare ora qual è il punto secondo importante della performance di conte il suo rapporto con il movimento 5 stelle io come avete letto forse negli ultimi giorni ho chiesto in maniera molto corretta e serena al presidente di tenere conto della base perché io credo che il movimento 5 stelle non possa prescindere dalla sua base dai suoi attivisti dal volere delle persone che lo hanno fatto grande dalla democrazia diretta e dirò di più io vorrei che si allargasse questa base io vorrei che professionisti avvocati imprenditori medici operai disoccupati giovani i ragazzi delle università delle scuole aderissero in massa al nuovo movimento più ancora di quanto non aderissero a quello che non era ancora guidato da conte ci sarà un cambio di passo ma allarghiamo la nostra base e valorizziamola voglio gente nuova che creda in questo progetto politico perché ieri la verità è che ieri noi abbiamo visto l'altro ieri quando è stato abbiamo visto per la prima volta dopo anni in italia un leader autorevole e chiunque di noi che abbia un minimo di onestà dovrebbe dire porca miseria questo è un uomo con le palle questo è un uomo valido questo è un uomo che può fare tanto per il futuro dell'italia io mi impegno e io mi metto in gioco e aiuterò il progetto politico di giuseppe conte questo vorrei che noi trasmettessimo a tutte le persone che conosciamo invitiamole a impegnarsi a diventare parte integrante di un progetto politico a medio lungo termine a media lunga scadenza perché conte può guidare l'italia a miglioramenti a cambiamenti positivi ha parlato di legalità giuseppe conte ha parlato di lotta a tutte le mafie noi parliamo di questo e poi c'è stato anche gratteri non so se l'avete visto che è andato in tv e ha ricordato quanto è stata buona la riforma buona fede e quanto sarebbe negativa alla riforma cartabia e gratteri la mafia la combatte in calabria gratteri vive sotto scorta perché combatte la mafia gratteri non è un politico o un opinionista un signore interessato è uno che ha dedicato la sua esistenza alla lotta alle mafie questo è signor gratteri e allora gratteri quando va a dire che buona fede ha fatto una buona riforma e che quella della cartabia non è per lui una buona riforma forse è più autorevole dei tanti giornalisti prezzolati per non stavo per dire una parolaccia che dicono il contrario chi è più autorevole gratteri o pinco pallino che scrive sul giornale che prende soldi pubblici io penso che sia più autorevole gratteri questo è il punto questo è vedete quando si tratta di tirare acqua al mulino della narrazione mainstream improvvisamente bisogna sentire gli esperti bisogna sentire gli scienziati e bisogna sentire gli auto gli auto gli autonominati esperti quando parla gratteri che un mero esperto di lotta alla mafia che dedica la sua vita alla lotta alla mafia gratteri è sotto scorta da credo oltre vent'anni ha sacrificato la sua libertà per noi ha sacrificato la sua libertà e della sua famiglia per combattere l'andrangheta calabrese e tutte le mafie quel signore lo sa come funziona la mafia la combatte ogni giorno e se quel signore dice quelle leggi vanno bene quelle che ha fatto alfonso buonafede beh magari ascoltiamolo questo signore qui o no e giuseppe conte è stato molto corretto nel dire noi non arretriamo di un millimetro rispetto alla legalità rispetto alla alla lotta alle mafie rispetto alla lotta alla corruzione a ogni tipo di corruzione perché l'italia è un paese profondamente inquinato dalla corruzione a tutti i livelli e che abbiamo un uomo che va in tv e oggi parla di questo con grande chiarezza con grande autorevolezza e non abbiamo il solito chiacchierone che mangia la nutella e parla solo di immigrati beh è un grande passo in avanti e allora invito tutti voi a credere in questo progetto politico ad appoggiarlo ad impegnarvi a coinvolgere altri quando dico sempre condividete la diretta e condividete i contenuti perché dobbiamo coinvolgere altri in questo progetto politico e adesso vorrei non lasciate qualcuno mi scrive i troll qualcuno mi ha definito assassino non so perché sarei un assassino io ma detto ciò i pazzi non ascoltate i pazzi o quelli che dicono sciocchezze vi stavo dicendo vorrei che noi facessimo un'operazione verità e che facessimo un'operazione di grande supporto a giuseppe conte perché questo progetto può anche ingrandire quello che un tempo era il movimento è stato finora il movimento 5 stelle e farlo diventare qualcosa di più importante e di più utile al futuro della nostra italia dei nostri cittadini dei nostri figli di quelli che verranno dopo di noi una cosa molto importante a qualche scemo scrive sei al governo assassino bene magari siccome la parola assassino presume che io abbia ucciso qualcuno e questo non è mai successo grazie a dio questo signore che si chiama manuele serini vediamo se lo possiamo segnalare ai miei legali perché a me che qualcuno mi dica assassino francamente in pubblico non mi piace molto in quanto grazie a dio non sono un assassino sono pure un obiettore di coscienza non so neanche usare le armi quindi non so come potrei uccidere qualcuno allora una cosa molto importante ragazzi prima di rispondere alle vostre domande la settimana in parlamento europeo abbiamo ottenuto dei successi è molto importante che voi lo sappiate battaglie del movimento 5 stelle di cui nessuno vi parla poi hanno un esito positivo abbiamo ottenuto un voto positivo per un solo voto pensate a una progetto nostro per primi ne abbiamo parato noi ma c'è stato questo emendamento dei verdi sostenuto dal movimento 5 stelle dalla dal buona parte del gruppo socialista del gruppo gue che sarebbe quello comunista e anche alcuni dei gruppi di destra e anche alcuni di regno europe e del partito popolare perché di cosa parliamo della sospensione del diritti di brevetto sui vaccini per il covid io voglio essere chiaro è una battaglia di civiltà noi la poliomelite che era una malattia terrificante terrificante l'abbiamo sconfitta noi come umanità dico perché chi ha scoperto il vaccino lo ha regalato al mondo non ci ha guadagnato una lira non ha voluto soldi si chiamava sabine era un medico ebreo non ha voluto soldi e ha regalato questa scoperta all'umanità grazie a quel signore e alla sua generosità che avrebbe potuto farsi miliardi invece era un professore universitario e gli bastava il suo stipendio abbiamo sconfitto la poliomelite ora noi oggi abbiamo il rischio che il covid lo sconfiggiamo in europa o lo limitiamo in europa e poi in india e nei paesi poveri scoppia con una tale virulenza poi con le varianti da ricontaggiare e far ricadere nell'incubo tutta l'umanità tutti i continenti europa compresa allora perché è importante sospendere il brevetto dei vaccini per darli a prezzi bassi a quei paesi che non se lo possono permettere oggi attenzione qualcuno potrà dire è però gli rubate la loro proprietà intellettuale no no innanzitutto perché è un caso di necessità è una lotta che tutta l'umanità sta facendo contro un virus che ha rovinato l'esistenza di tutti noi per più di un anno ma non solo vi ricordo che le aziende che hanno prodotto questi vaccini hanno preso un sacco di soldi pubblici finanziamenti pubblici finanziamenti che derivano dalle nostre tasse noi paghiamo la ricerca anche a istituti privati con soldi pubblici ed è giusto così ma quando c'è un caso di estrema necessità e gravità come questo la ricerca che si è fatta ricca e ha ottenuto dei risultati anche grazie ai soldi pubblici rinuncia a una parte del proprio guadagno a una parte non a tutta una parte del proprio guadagno sospende il brevetto sui vaccini e lo dà all'umanità questo significa lavorare per il bene dell'umanità e noi questa vittoria in parlamento europeo l'abbiamo ottenuta perché per un solo voto pensate hanno votato contro la lega ve lo dico subito hanno votato contro la lega forza italia fratelli d'italia e italia viva cioè in pratica salvini meloni berlusconi e renzi hanno votato contro e noi abbiamo votato a favore insieme a parte a buona parte di diciamo degli eurodeputati italiani del pd anche ripeto dei verdi europei non ce ne sono italiani ce ne sono gli ex tra i traditori del movimento 5 stelle ma insomma non sono stati eletti verdi italiani ma ci sono quelli del movimento 5 stelle e anzi abbiamo avuto dei voti decisivi anche da parte di deputati che stanno nello stesso gruppo della lega e parlo di altre nazioni naturalmente non italiani perché è una cosa talmente evidente che solo chi è contro l'umanità il progresso può votare contro e hanno votato contro lo ripeto lega forza italia fratelli d'italia e italia viva questi hanno votato contro noi abbiamo votato a favore grazie a dio e è passato per un solo voto adesso però la commissione deve mantenere questa volontà del parlamento europeo perché c'è il solito giochetto il parlamento europeo vota in un modo poi la commissione o il consiglio cambiano le carte in tavola e noi su questo non arretraremo di un millimetro ve lo dico subito perché abbiamo ottenuto una vittoria e dobbiamo andare avanti e ringrazio anche alcuni miei colleghi che sono molto impegnati su questo ma ci sono altre vittorie end of cage age cosa significa la fine degli allevamenti in gabbia nasce da una petizione popolare cioè una petizione di cittadini che hanno raccolto circa un milione e mezzo di firme pensate in italia se n'era occupata la nostra ex ministra e deputata giulia grillo che ringrazio e oggi abbiamo lottato in parlamento europeo per far approvare questa risoluzione in particolare molti di noi in particolare per le commissioni in cui siamo anche io che sono in commissione agricoltura mario furore un mio collega bravissimo giovane della puglia e tanti altri e abbiamo vinto questa battaglia quindi il parlamento europeo vota una risoluzione per cui non ci devono essere più animali allevati in gabbia con quelle sofferenze atroci che ogni tanto avete visto in qualche puntata di report di presa diretta non so se lo ricordate quella è tortura non è allevamento però naturalmente dobbiamo ottenere che i partner commerciali abbiano lo stesso la stessa cortezza perché qual è il problema se noi diciamo agli allevatori italiani non potete più allevare gli animali in gabbia dovete assicurare il loro benessere dovete trattarli meglio la carne costerebbe un po di più certo ma farebbe meno male a noi e sarebbe fonte di molta meno sofferenza quindi sarebbe una carne molto più preziosa però se poi all'estero nei paesi che hanno partnership commerciale con l'europa non imponiamo la stessa regola e quelli gli vendono il pollo a mezzo euro lo capite improvvisamente quella regola che è una regola di civiltà che abbiamo ottenuto rischia di diventare un autogol e questo sarà il prossimo passo che naturalmente dobbiamo ottenere e anche qui la commissione deve darci ascolto noi abbiamo vinto una battaglia in parlamento non vorremmo che la commissione ci fregasse come sull'acqua pubblica io oggi non so se avete visto ho messo il video del mio intervento io l'ho ricordato sull'acqua pubblica sempre una posizione popolare che ha ottenuto questa grande vittoria ma poi l'acqua pubblica anche in molti comuni italiani non c'è ancora è appaltata ai privati in particolare francesi o gruppi multinazionali nati in francia e poi ramificatisi in tutte le nazioni europee penso al gruppo veolia quindi attenzione non possiamo assolutamente abbassare la guardia come sull'acqua pubblica e saluto l'amico attivista benedetto bruno che è uno dei tanti che in sicilia si batte come un leone per l'acqua pubblica ma anche per la fine reale degli allevamenti in gabbia abbiamo ottenuto questa vittoria che non rimanga una vittoria sulla carta una vittoria di pirro ma che diventi subito realtà con regolamenti cogenti che riguardino l'europa e i paesi partner commerciali dell'europa allora vi volevo dire queste due cose perché sono due vittorie e nel movimento 5 stelle non si parla mai in tv sui giornali di quando otteniamo dei risultati positivi e sono due risultati positivi naturalmente non sono soltanto nostri si è chiaro sono ottenuti da un gruppo di forze all'interno del paramento europeo ma è sempre così perché in europa noi siamo 4 eravamo 14 adesso siamo 8 siamo rimasti e i deputati europei sono circa 750 per cui immaginatevi in 8 su 750 se non ti allei diciamo con gli altri i numeri per ottenere dei risultati non li avrai mai c'è un ultimo risultato che voglio rivendicare riguarda l'assegnazione di fondi europei alle regioni del sud sono state dette delle puttanate atomiche da esponenti politici soprattutto del centro destra anche in sicilia 4 miliardi 2 miliardi tolti al sud e poi i mesi non verrà tolto un euro un euro a nessuna regione a nessuna del sud del centro e del nord non verrà tolto un solo centesimo di euro è un lavoro del quale vado orgoglioso perché anche io che sono in commissione agricoltura insieme ad alcuni colleghi del movimento 5 stelle delle varie regioni per esempio luigi sunzeri in sicilia dedalo pignatone che in commissione agricoltura fabrizio trentacoste che al senato sempre in commissione agricoltura e tanti altri valeria ciarambino in campania abbiamo lavorato con il ministro patuanelli per evitare che alle regioni del sud venisse tolto un solo centesimo abbiamo vinto quindi chi ha sparato la stronzata che sarebbero stati tolti 2 miliardi 3 miliardi un miliardo 400 milioni tutte bugie schifose si trattava di un ricalcolo di 92 milioni di euro in totale per 20 regioni in totale per due anni quindi 45 milioni l'hanno alto che 2 miliardi ma questi 92 milioni di euro sono compensati da un fondo quindi per ogni centesimo che si sposta da una regione a un'altra quella stessa regione avrà un centesimo da questo fondo questo è un successo ottenuto grazie al lavoro di squadra se noi fossimo sempre uniti e lavorassimo come squadra forse avremmo ottenuto ancora più risultati quelli che abbiamo ottenuto e ringrazio stefano patonelli il ministro che ci ha molto ascoltato oltre a tutti i colleghi che ho citato ed altri che chiedo scusa perché magari c'era grazia di bari per la puglia ce ne sono stati tanti altri che si sono impegnati in questo perché davvero noi siamo persone che lavorano che si impegnano poi possiamo sbagliare possiamo ottenere dei successi e degli insuccessi anche dei fallimenti ma a me mi girano i coglioni quando dicono ah ma che ci state a fare in parlamento europeo ma noi ci ammazziamo a lavorare ci ammazziamo a lavorare e mi girano le palle quando mi sento dire il movimento non fa il movimento non è vero sono bugie sono bugie poi non sempre riusciamo a ottenere dei risultati io lo so la prima volta il nostro emendamento sui vaccini la sospensione dei brevetti era stato bocciato però oggi è passato l'hanno presentato i verdi chi se ne frega va bene lo stesso è lo stesso identico l'importante è arrivare al risultato noi l'abbiamo votato con entusiasmo sia chiaro noi dobbiamo andare sempre a vedere il risultato che otteniamo per i cittadini e questi risultati importanti ve li volevo dire poi io ho fatto un intervento lo avrete sentito sull'immigrazione dove invece ancora le cose non stanno come vorremmo e l'europa non fa ancora la sua parte l'europa deve combattere con mezzi soldi e forze uomini forze armate gli scafisti i trafficanti di uomini e deve far sì che davvero il fenomeno immigrazione venga affrontato a livello europeo e non a livello italiano del paese di primo ingresso non vogliamo più vedere morti in mare è una barbarie non vogliamo più vedere persone che si arricchiscono con il traffico di esseri umani come accadeva millenni fa e speravamo che questo non potesse più accadere non vogliamo più affrontare da soli un fenomeno epocale non è giusto non è solo una questione di ricollocamento ma di rivedere tutto il trattato di dublino peraltro la von der leyen ci ha assicurato questo lo ha annunciato io ero anche molto contento quando l'ha annunciato capisco c'è stata la pandemia ma sono passati troppi mesi quindi adesso basta promesse adesso passiamo ai fatti e anche la nostra eurodeputata mia collega laura ferrara si impegna molto come sapete in questo settore della regolamentazione del fenomeno migratorio e abbiamo bisogno di risultati più concreti purtroppo il consiglio europeo spesso e volentieri glissa sulle questioni più importanti e noi siamo lì a punzecchiarli quando dove vinciamo ve lo dico dove combattiamo vi dico che stiamo combattendo non ci raccontiamo balle naturalmente allora se vogliamo fare delle domande su a qualcuno mi dice dino fatevi sentire vederli più sul territorio caro Tobia Falcone io sul territorio ci sto sempre e ci sarò anche questo fine settimana ci sono stato lo scorso finalmente possiamo ricominciare a fare degli incontri incontrerò dei pescatori a Catania lo scorso fine settimana sono stato a Mister Bianco sono stato a Catania sono stato a Siracusa per pochi minuti in fine di giornata io incontro sempre i nostri attivisti i nostri cittadini perché lo ritengo giusto e appena il covid me ne dà l'opportunità io lo faccio durante gli anni i mesi del covid come sapete la diretta era quotidiana perché era l'unico modo di stare connessi io la vorrei fare sempre ogni giorno poi quando stiamo tutto il giorno a lavorare a volte fino a luna di notte stasettimana è stata particolarmente dura e allora magari non riesco a fare la diretta tutti i giorni allora domande adesso fatele ora oltre a condividere vi chiedo sempre di condividere questa diretta fate adesso le domande su conte sul movimento su quello che vi pare sull'europa perché adesso vi rispondo allora nuvola nuvolare è vero che vogliamo fare un referendum sulla giustizia noi che lo vogliamo fare lo vogliono fare la lega e i radicali pensate è come dire lo vogliono fare i tifosi della roma e della lazio insieme fanno un corteo no è molto strano la lega e i radicali si uniscono per favorire chi al solito i corrotti e quindi noi siamo contrari a quei referendum cara nuvola nuvolari vedo che ci sono dei troll ma non cara maria fiorella longo che è una carissima nostra amica attivista persona fantastica di mister bianco non rispondere ai troll gioia ma che ti frega dei troll parliamo di argomenti fatemi delle proposte fatemi delle domande sono qui apposta non vi avvelenate il sangue dietro ai troll vale per fiorella e vale per tutto caro dino qui a marina di carrara non viene nessuno di voi cara giuseppina ravotti io vorrei venire dappertutto ma ti devo confessare che sto da lunedì al venerdì in parlamento europeo di solito a bruxella adesso siamo tornati a strasburgo sono qui a strasburgo e nei weekend di solito torno nel territorio che mi ha eletto cioè la sicilia e la sardegna ho fatto degli incontri anche in toscana ormai un anno e mezzo fa in campania nel lazio in tanti posti però ecco magari sarebbe bene che a marina di carrara ci andassero i nostri portavoce locali però scrivimi in privato e vediamo se riusciamo a organizzare un incontro anche lì anche a marina di carrara claudio britti con grazie per i complimenti conte detto che parlerà con di battista non sarebbe meglio parlare anche con morrella lezzi per me conte deve poter parlare con tutti e spero che ci sia però coerenza e che chi vuole star dentro sta dentro chi vuole star fuori sta fuori a me non piace molto l'idea che qualcuno che sta fuori dica come si deve comportare chi sta dentro secondo me il modo migliore per incidere nel movimento 5 stelle e stare dentro stare fuori e dire dovete fare così lo sai perché l'ho sempre detto con grande affetto anche per le persone che sono uscite lo trovo un po' incoerente quindi mi auguro che le persone che sono uscite possano rientrare a pieno titolo nel movimento e però poi lavorare da dentro impegnandosi tutti i giorni perché vi assicuro che è un grande lavoro un grande impegno se uno fa altre cose altri lavori e poi però vuole dire cosa deve fare il movimento è un po strano perché c'è gente che tutti i giorni sta lì si impegna sta sui territori e magari no come dire è meglio stare dentro che stare fuori mi auguro che conte possa come dire mediare fra le varie anime del movimento e farle lavorare tutte insieme andare tutte insieme nella stessa direzione in giugno conte ha detto che entro giugno sarà il nuovo statuto del movimento sì entro fine mese dovrebbe esserci saluto dario buonsignore lorenza cavolara ma il sostegno alle imprese quando arriva allora finché c'era il governo conte io avevo un diretto contatto col mef adesso mi è un po più difficile ma dovrebbe arrivare adesso entro la terza settimana di giugno o ricordo male mi informo meglio lorenza magari scrivimi in privato saluto rosa gervetti saluto stefano sarcinelli il bravo amico attore quando sarà pronta la piattaforma momento 5 stelle scrive antonio ermanno spero presto antonio però non me ne sto occupando io quindi la data precisa non la so saluto grazia sala cristina begel chi sceglierà il presidente della repubblica 50 sulle regioni non ne abbiamo 100 traditori in meno se andiamo alle elezioni siete pronti col taglio o non lo attuerete allora presente la repubblica lo sceglie questo parlamento 50 sulle regioni non ne abbiamo 100 traditori in meno non ho ben capito che vuoi dire se andiamo alle elezioni siete pronti col taglio il taglio c'è già è stato approvato dai cittadini cara cristina quindi alle elezioni ci saranno 100 senatori e 200 deputati in meno circa un po di più insomma ci saranno meno parlamentari e questa è una legge quindi non è che siamo certo che siamo pronti avremo candidati in tutti i collegi e saranno ne saranno eletti meno se anche il movimento piasse il 35 per cento dei voti cioè più di quello che ha preso la scorsa volta avrebbe meno eletti perché ci saranno meno parlamentari è una battaglia nostra che abbiamo vinto a proposito di battaglie vinte in toscana c'è la galletti mi scrive letizia ghidoni sì irene galletti una nostra portavoce toscana dino scusa ma non ho seguito la prima parte hai parlato dell'elezione dei candidati 5 stelle io vorrei votarti caro fausto vezzali non sappiamo se ci sarà l'elezione di una segreteria io ho proposto di farla vediamo conte cosa dirà cosa vorrà fare fate una bella sezione di chi aspira a cariche pubbliche ma i più traditori lo so carola però poi c'è gente che quando sta lì e fa il primo mandato non lavorava prima poi improvvisamente c'ha soldi magari poi riesce a inserire dentro pure qualche parente amico sorella no cognati e poi fa un mandato due mandati gli cambia il tenore di vita diventano ricchi improvvisamente invece prima se la facevano pezzi pezzi come si dice a catania e poi non vogliono scollarsi dalla sedia questo è il vero tradimento al movimento 5 stelle quelli che non vogliono scollarsi dalla sedia come sapete ho spesso criticato alcune posizioni espresse da alessandro di battista soprattutto la scelta di uscire dal movimento perché secondo me sarebbe meglio ripeto cambiarlo da dentro se lo vuoi cambiare però oggi alessandro ha detto che non è un bello spettacolo quello di tutti i grillini che dicono i portavoce che dicono vogliamo fare il terzo mandato ha ragione ero scritto anche sul messaggio ha ragione ha ragione quando qualcuno ha ragione va sempre detto che ha ragione ed ha ragione perché va benissimo tutto ma non è questo il punto centrale di una forza politica se puoi fare o no il terzo mandato e c'è molta gente che è uscita dal movimento per fare il terzo mandato questo mi auguro che tutti lo sappiano anche perché sono amici di quelli che poi criticano chi vuole fare il terzo mandato sappiano che tanti dei nostri sono usciti al movimento per farsi il terzo mandato altrove no chi è andato ai verdi chi è andato alla lega chi è andato al gruppo misto chi è andato al pd vogliono fare il terzo mandato io mi gioco mi gioco guardate mi giocherei 10.000 euro 10.000 euro mi posso fare nomi e cognomi dei quattro per esempio euro deputati che sono passati ai verdi quanto ci vogliamo scommettere che tutti e quattro si candideranno a una nuova poltrona dopo due mandati sono tutti e quattro dal secondo mandato corrao pedicini evi ed amato tutti e quattro dal secondo mandato mi giocherei 10.000 euro che tutti e quattro si candideranno per una nuova poltrona poi qualcuno magari candiderà la moglie il marito il marito il cugino il fratello ma tutti e quattro loro mi giocherei 10.000 euro si candideranno per fare un terzo mandato e poi dicono che sono usciti perché valori per si candideranno per fare un terzo mandato quanto scommettiamo io scommetto almeno 10.000 euro allora è vero che se draghi diventasse presidente della repubblica brunetta sarebbe il nuovo presidente del consiglio scrive sabina carlettini a me mi pare una minchiata furibonda se draghi diventa presidente della repubblica si cade questo governo e si fanno le consultazioni per un nuovo governo brunetta potrebbe diventare io non credo che accadrà ma potrebbe diventare il presidente ad interim cioè che per quel periodo di interregno fa le funzioni di presidente del consiglio ma secondo me se draghi dovesse diventare presidente della repubblica cosa che io non credo se così fosse lo stesso draghi prima di fare questo passo nominerebbe un vice premier un vicario che prenderebbe il suo posto e non credo che sarebbe brunetta poi posso sbagliarmi naturalmente ma ti rendi conto maurizio fossati di come siamo messi male a genova con la destra e con orso gli occhi toti aiutateci e caro maurizio quelli però sono stati votati quindi come in sicilia abbiamo votato dico purtroppo musumeci in liguria avete votato toti e purtroppo la democrazia è democrazia e quello deve governare bisogna fare una bella opposizione a musumeci come a toti il limite del doppio mandato non deve essere un dogma alla fine di 10 anni di legislatura chi intende continuare si sottoponga al giusto iniziare gli iscritti il collegio dove è stato eletto dice cosimo napoli caro cosimo io rispetto la tua opinione però ricordo anche che noi abbiamo preso tanti voti dagli italiani proprio perché dicevamo che avremmo fatto massimo due mandati cioè noi abbiamo preso i voti perché eravamo diversi se poi ci rivediamo uguali agli altri secondo me molti italiani non ci votano più amedeo sciofalo mi conferma che quei quattro si candideranno per un terzo mandato da qualche parte nuvola nuvolari parla di prime donne basta dobbiamo essere tifosi solo del movimento su questo ha ragione maria maddalena cicciu non è il problema dei mandati che potrebbe pure cambiare ma il tradimento che fa schifo hai ragione marcosini dino abito da 20 anni in germania ti stimo e vi stimo tu pensi sia un'alleanza col pd possibile se sì pensi siano tutti affidabili il presidente della repubblica mi piacerebbe bersani caro marcosini grazie intanto per le belle domande io penso che l'alleanza con il pd è possibile ma per me va valutata di volta in volta di comune in comune di regione in regione non deve essere un'alleanza strutturale questo caro marcosini è quello che penso della prima domanda seconda domanda pensi siano tutti affidabili quelli del pd no risposta no all'interno del pd ci sono delle persone eccellenti ci sono delle persone imbarazzanti ci sono bravi politici e ci sono impresentabili quindi non sono tutti affidabili per questo non voglio fare un'alleanza organica perché il movimento è cosa diversa però secondo me se in alcune comuni in alcune regioni in alcune amministrative o al limite anche alle politiche si fa un accordo sui programmi sui nomi sui candidati togliendo tutti gli impresentabili e allora qualche alleanza si può fare ma non deve essere organica proprio perché credo che ci siano persone anche non affidabili presidente della repubblica Gianluigi non si chiama Gianluigi si chiama Pierluigi ma tu hai scritto Gianluigi e mi hai fatto confondere Pierluigi Bersani per carità persona molto affidabile per bene è uno dei pochi politici italiani che ammette i propri errori ne ha fatti tanti se avesse votato Rodotà alla presidenza della repubblica l'italia sarebbe un paese diverso avere avuto un presidente come Rodotà che il movimento 5 stelle voleva avrebbe cambiato la storia di questo paese quindi Bersani ha quella grande responsabilità secondo me detto questo è una persona migliore di molte altre ma non credo che avrebbe mai i voti per diventare presidente della repubblica Mario Sorbera dice dopo decenni di ruberie ci sono ancora gli italiani che ci cadono e questo è il punto questo vi dico condividete sta diretta parliamo della verità perché molti italiani non lo fanno per cattiverie ma perché non sanno chi fa lavora per il loro bene e chi invece vuole solo fregarli Antonio Foti spero che tutto il movimento si impegni a sostenere la Raggi non solo con le parole ma con i fatti spero anche nel ritorno di Di Battista Antonio come sai io sostengo con grande forza la Raggi rispetto al ritorno di Di Battista ne ho appena parlato ripeto secondo me è meglio combattere da dentro ma poi questo lo vedranno i diretti interessati diciamo io sono io e posso parlare per me Dino la legge elettorale sarà cambiata le liste civiche parentopoli ci saranno in gruppo misto si può togliere il gruppo misto si può togliere con una modifica del regolamento interno della Camera e del Senato e la legge elettorale mi auguro venga cambiata con le preferenze mi piacerebbe molto Dino ti piace vincere facile puoi alzare anche la posta Marco delicato parla della scommessa di prima hai ragione hai ragione caro Marco Mary Ross no questi risponde Mary risponde a qualche a qualche troll cosa che vi consiglio di non fare perché ci perdete solo tempo e salute Mina Molina dice il PD non è affidabile ciao a Gaetano Mongiovì che saluto Giordana Scaglioni pure se non ci sono altre domande salutiamo Dario Borsignori non molte persone non hanno capito quanto mai il reddito di cittadinanza ecco ultima cosa che voglio dirvi grazie a Dario Bonsignore che me l'ha ricordato l'altro giorno sono stato in tv c'erano la Santa Anche e Cimino che dicevano ah il maledetto reddito di cittadinanza abbiamo scoperto che avevo ragione io perché quando la San Montana un'azienda seria offre uno stipendio serio e offre 350 posti stagionali manco al tempo interminato stagionali si presentano in 2500 non è vero che non ci sono i lavoratori non è vero che la gente non vuole lavorare la gente non vuole essere schiavizzata e ha ragione e il reddito impedisce la schiavitù bene che impedisca la schiavitù grazie alla San Montana perché ha fatto una reclutamento corretto offrendo uno stipendio corretto un contratto vero non il contratto da stagista contratto di formazione tutte queste puttanate o soldi in nero la San Montana dice io ho 350 stagionali chi vuole venire a lavorare si presentano in 2500 2500 è normale se tutti gli alberghi tutti i ristoranti tutte le aziende dicessero questo è il contratto questo è uno stipendio vero ma ci sarebbe la fila tutti vogliono lavorare anche chi prende il reddito vorrebbe lavorare e sistemarsi ma stiamo scherzando ma la bugia patologica che dice la Santanchè che dice Cimino che dicono questi personaggi che la gente non vuole lavorare per il reddito ma è una bugia merdosa merdosa ed è insultante nei confronti di chi cerca lavoro e di chi prende il reddito quindi davvero davvero facciamola circolare la verità questo esempio della San Montana ha spiegato in maniera plastica plastica che sono state dette cazzate mi è stupito che Mirta Merlino ha citato la San Montana doveva dire ma allora c'aveva ragione Gianrusso l'altro giorno visto che era proprio nel suo programma che Santanchè e la Cimino sparavano sciocchezze stavo per dire cazzate ma non è il caso allora Orazio Paolo Ridente dice due mandati se siamo in opposizione non sono convinto che vado bene per me è una questione di principio grazie a Raffaele Gennaro abbassiamo il costo del lavoro ha perfettamente ragione Raffaele che saluto viva il reddito di cittadinanza Salvatore Fallica dice vogliono schiavi Anna Maria Casciano quanti giovani prendono il reddito pochi lo prendono perché molti giovani stanno con i genitori quindi i giovani che prendono il reddito sono molto pochi ciao ad Anna Francese ciao Renato Romano ciao a tutti a Grazia Lenzo e ci vediamo o sentiamo domani grazie per essere sempre in tanti e condividete anche adesso che è finita questa diretta lo sapete che mi fa piacere perché dobbiamo un po' far circolare una realtà che molti mezzi di comunicazione offuscano cancellano oscurano e non trasmettono grazie ragazzi a domani